Con noi Luigi Dalcin, un ingegnere, uno scrittore, oggi prevalentemente scrittore, al suo attivo circa 70 libri, scrive libri per ragazzi, soprattutto per i bambini. Ma come nasce un libro? Da dove nasce la storia? Beh, io sono ingegnere e quando i bambini mi chiedono, ma veramente sei un ingegnere? Io dico sì, ma sto cercando di smettere. La storia nasce direi da un'abitudine all'osservazione, all'osservare i luoghi, le persone, i tic delle persone, i tic dei bambini anche, e soprattutto nasce da una dimestichezza con il linguaggio dei bambini. Quindi un bravo scrittore per ragazzi deve necessariamente conoscerli e poi stare dalla loro parte. Dunque, Luigi Dalcin oggi è impegnato prevalentemente in un'azione comunicativa. Sì, io una metà della mia attività è scrivere libri per bambini, l'altra metà poi è girare per le scuole e incontrare i bambini nei luoghi in cui loro vivono, un po' in tutta Italia. E poi, in particolare oggi, terò un corso di aggiornamento per insegnanti, sempre sulla scrittura. Quello che faccio nelle scuole poi è di presentare il libro e la lettura e la scrittura come attività piacevoli, attività possibili e appassionanti, ecco, non solo come doveri scolastici. Ecco, lei diceva che adesso è impegnato in attività formative per gli insegnanti, quindi per coloro che sono gli educatori, i formatori dei nuovi, dei prossimi uomini e cittadini del futuro, della società. Sì, in particolare io mi occupo della parte che riguarda la lettura e la scrittura, quindi io oggi darò degli elementi e degli strumenti sia per aiutare i bambini a leggere e aiutarli a scrivere, fornendo delle tecniche un po' i segreti che hanno gli scrittori per scrivere un buon libro. Dunque prevalentemente una comunicazione non verbale. Sì, sì, ecco, ci si può chiedere in una società mass-mediatica dominata dai cosiddetti alfabeti visivi, siamo continuamente colpiti da immagini, che senso abbia leggere, che senso abbia scrivere. Io credo che la scrittura e la lettura siano ancora attività fondamentali per il bambino, perché attraverso la lettura e la scrittura il bambino sperimenta un momento di silenzio che spesso nella vita frenetica che vive non sperimenta. E poi il libro è sempre stato sinonimo di pensiero critico, di libertà di giudizio. Non a caso i regimi totalitari hanno visto la lotta al libro proprio visto come garante della libertà di pensiero. Quindi credo che anche oggi, in un mondo dominato da altri media, sia molto importante continuare ad abituare i nostri bimbi a leggere e a scrivere e ad esprimersi attraverso la scrittura. Ecco, purtroppo si legge sempre di meno, è statisticamente provato. Quali gli input da lanciare affinché i bambini possano piano piano approcciarsi verso la lettura? Sì, si legge molto di meno, si legge sempre di meno, è vero. I bambini però, sembra quasi un paradosso, impossibile, ma la fascia editoriale più inattiva è proprio quella che è rivolta ai bambini. Quindi, mentre i bambini leggono, il 65% dei bambini in Italia legge un libro, degli adulti sono il 45%. Quindi paradossalmente bisognerebbe spingere sugli adulti. È vero che i bambini di oggi saranno i cittadini di domani, quindi il far apprezzare i libri, far apprezzare la lettura, non come un dovere, ma come un piacere, è forse la chiave per riuscire a stimolarli in modo che da grandi non guardino i libri come qualcosa di estraneo alla loro vita o di minaccioso addirittura. Io la ringrazio. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Grazie. Non ti muovo, professore, una bella foto. Vieni.